Sabrina Aureli è una delle artiste che ho visto per prima, girando proprio nel chiostro. Che cosa vorrei evidenziare di questo quadro? Poi torniamo in dieta, andiamo avanti e parliamo del percorso romana, 65, che è un bell'anno, una bella generazione. E allora, quello che mi ha colpito molto è il fatto che Sabrina ha trovato perfettamente un suo stile, uno stile tutto suo, certo, metafisica, l'arte digitale. Allora, quello che è bello è questo mare, è tutto visto dall'alto, c'è una prospettiva, si vede laggiù, non so se è un golfo, è tutto in un gioco di un grigio chiaro, di bianco, tutta luce. E poi c'è il piccolino, il bambino e la mamma, diciamo, la mamma che lo conduce. È magico, è strano, è curioso. Diciamo, l'acqua è la nostra prima camera, e la madre è il mare, è questo il gioco. Il mare fa parte del nostro habitat, perché noi nasciamo nell'acqua, nelle acque materne. Chiaramente, sono figure simboliche perché la nudità poi è, diciamo, purezza, questo è il discorso. La mamma e il bambino è proprio la simbologia, noi siamo degli esseri spirituali venuti sulla terra per fare un'esperienza. Sì, certo, certo, lo penso anch'io, profondamente. E poi c'è questo connubio tra il mare, che è la nostra prima casa, diciamo, dove nasciamo, e il cielo. E' affascinato molto il gioco, che non è architettonico a questo punto, diventa profondo, esistenziale, intimo, del luogo, della scenografia, intima. E non c'è di tutto, crei questo grande spazio meraviglioso, ed è lo spazio anche che noi abitiamo, che ci abita addirittura. E diciamo, è anche una descrizione dell'anima, se vogliamo, dove noi vediamo attraverso una finestra un infinito, che è come la poesia. Questa è ancora più bella, questa è la porta del cielo. La Madonna, praticamente. Eh sì, c'è una porta del cielo, io credo che c'è, ma bisogna anche volerla, saperla, immaginarla, intuirla, inventarla. Tu mi dici che la Madonna è tutta bianca, e c'è questa aureola, e c'è questa luce, meraviglioso, diciamo, simbolico, auratico. No, no, è la porta del cielo, il cielo è stupendo, perché l'hai reso sublime di terrestrità. Così, intanto c'è laggiù in fondo un quadro, l'opera d'arte nell'opera d'arte, meta artistica. C'è una situazione, diciamo, architettonica, un ambiente, eccetera, così, però poi in fondo c'è un panneggio dove c'è, io vedo una barca a vela, c'è il mare, eccetera, quindi, capito? Diciamo che Sorrento è la città del... Perché Sorrento 23? L'ho chiamato Sorrento per evocare la città, il profumo dei limoni del mare. Certo, certo, è stupendo. Poi c'è un'altra cosa bella che sto notando, che non è un ambiente chiuso, l'avete capito? Non c'è un soffitto, il soffitto è il cielo, molto pieno di nuvole, abbastanza queste, anche comuni nembi, grigie. Sabrina, io sono onesto e neutrale con tutti, tra l'altro tutti bravi a ciascuno a suo modo. Hai trovato un tuo stile, hai trovato una tua, vorrei dire, beltà pittorica. Grazie, l'idea. Grazie.